Benvenuti a meteogiulianci.it. Domani, mercoledì 9 gennaio, ancora bel tempo su gran parte dell'Italia per la presenza di un'alta pressione che ricopre soprattutto le regioni centrosetenzionali, dove favorisce però anche la presenza di nebbie diffuse nella pianura Padano-Veneta e nelle valli del centro. Però, d'altra parte, favorisce anche temperature massime al di sopra della Meglia, soprattutto al centro nord. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale. Vedete un'Italia quasi sgombra da nuvole, qualche perturbazione che tende a lambire un po' le regioni adriatiche, un po' di nuvole sulla Liguria, che sono l'avanguardia di una perturbazione che dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Bene, ma vediamo allora che tempo farà dopo domani e vedete sì un po' di nuvole qua e là. Attenzione alle nebbie che ancora insistono sulla pianura Padano-Veneta, direi nebbie dense e diffuse, eccetto il Friuli, Venezia e Giulia e il Basso Piemonte e la Liguria. Andiamo a vedere le temperature massime, temperature massime intorno a 7-10 gradi al nord, 9-15 al centro, 12-16 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.